E salve a tutti ragazzi, eccoci qui tornati con un nuovo episodio di Resident Evil 4 Remake Luis ci ha dovuto superare, non si sa perché E niente, andiamo avanti, grazie per il supporto che ci state dando, continuate E... Aiutateci col tempo di visualizzazione, supportate i canali che vi ho messo anche sotto in descrizione Comunque nei commenti mi avete detto di prendere la R9 Che è una pistola perché vi avete detto educatamente che è una pistola scarsa Oh Oh E ho capito, key lag non è facile eh Eh ho capito eh Eh no no, attenzione a spara a quelle se no Dai, a Leon Attenzione a spara a quelle se no esplodiamo Palle sta, sta tosse Allora, tutta insieme A tosse questi oggi, ma che Attenzione eh Scusate regà, ma c'ho sta tosse Mi sta affestata mesi Niente Finito? Temo di no Siamo soltanto all'inizio Perfetto Ce l'abbiamo fatta Ci ha salvato eh Comunque la R9 ragazzi la comprerò eh Chi c'è? Ma, 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 ma Luis Ma dove stai? Cioè che sta a guardare? Vabbè Niente, non oggi, oggi cioè Non c'è proprio speranza C'ho la gola infiammata raga E' una cosa pazzesca Chi c'è? Oddio, un'altra volta al carrello Andiamo Ah, un'altra volta Vuoi salì però? Mamma mia Non me la ricordavo sta parte Voi me la ricordavate raga? Fatemi sapere nei commenti eh E vabbè Ma pure lui no Pure lui no Porca miseria Ciao ne Questi alla fine raga Chi se ne frega Questo no però Fini della corsa Stozzo No che schifo No pure loro no eh Guarda Cazzo Tira il freno No che cosa ha? Vai sul set Salto nel vuoto Allora Luis Dammi una mano Conta fino a tre La prossima volta Saccio Come vuoi Allora Diciamo di sì Dai Oh Eh beh certo Che rottura Ce l'ho le munizioni per fucire a pompa? Ma quando mai? Quando mai? Comunque vi ripeto La red 9 la comprerò sicuramente Che schifo Dai allerta Si mimetizzano bene Che adesso andiamo di qua? Odio gli insetti Pensaci tu anche per me Va bene? Che ne dici di aprire il fuoco Anziché Aia Che schifo Invece di parlare Luis Spara Acci tua Allora Oh ma Alois Che stai a fa' Cioè Eppure Eppure Sono Porca miseria Do stiamo Ma io Ma Che schifo Allora Recuperiamo munizioni Eh questo schifo Queste schifo De cavallette Non ce ne libereremo mai Mai Ho detto che saremo Finiti Praticamente nel nido No Eh che cavolo Merda Allora Bene Oh che schifo Oh che schifo C'è quell'arma lì No Il fucile Che c'è qua sotto Io Ma Allora ragazzi Facciamo così Ci fermiamo qui Perché Ho questa Brutta tosse Che non mi permette Di registrare oltre Come al solito Vi invito a iscrivervi al canale Lasciare un bel like A commentare Condividere Attivare la campanellina Delle notifiche Non perdervi gli altri video E supportare Serie e canale Guardate anche Gli altri canali Che vi lascio In descrizione E Se sono vivo Ci vediamo alla prossima Ciao a tutti Ciao a tutti